Siamo in una zona subtropicale, qui il clima è estremamente asciutto, è un fiore di cactus. La famiglia dei cactus appartengono tutte alla famiglia dei cactus. Mashimomo, Rimaya, è una divinità in grado di dispensare il bene oppure il male. La famiglia della scurità si pinta i occhi, si muerde i labi e abanico in mano. La famiglia della scurità si pinta i occhi, si pinta i occhi, si pinta i occhi, si pinta i occhi. Sono piante di agavi, una veduta del luogo nel quale abbiamo fatto sosta. Costruita nel novecento avanti Cristo. Questa piramide è alta 75 metri e per raggiungere la vetta bisogna salire 245 gradini. La piramide della luna invece è alta 48 metri e bisogna salire 75 gradini. Questa è l'entrata della città che nel novecento avanti Cristo contava 75 mila abitanti. Nel periodo di massimo splendore arrivò ben 350 mila. Le abitazioni erano abbastanza ampie e decorate così come vediamo. La principale attività era quella agricola. Gli abitanti non conoscevano la scrittura ma sapevano fare i calcoli molto bene. Conoscevano lo zero e contavano di 20 in 20. Il sito con il tempo venne abbandonato a causa della siccità. Qui venivano fatti sacrifici umani al dio. Gli studi recenti hanno dimostrato che questa piramide prima di essere chiamata dio del sol era dedicata a Teotlac dio dell'acqua. Altare sacrificale. La piramide della luna. La base è 142 x 130. Tutti intorno 12 templi al centro della piazza della luna. L'ostare sacrificale. Alcune abitazioni. Conocivano per movemari. Ma Southén. Un сможi振irare il campero sono ges По2. Università alimentlegt. Durante evoluzioni 4e per v temps. Calcolare cor isso. La testa del serpente Scultura monolitica antropomorfa Solo il 7% delle costruzioni è stato riportato alla luce in questo sito.